Quei vasi con giovani piante d'olivo collocate nell'anello di Piazza Rossetti e sulla piazza stessa non piacciono ai vastesi. Molti commercianti del centro storico hanno avuto modo di sponsorizzare i vasi con le piante per migliorare il decoro, ma per molti la piazza era più bella senza quei vasi. E di questi giorni la denuncia di alcuni cittadini che lamentano la pericolosità delle olive che cadono a terra, macchiano anche la strada pavimentata recentemente e rischiano di provocare inevitabili cadute a qualche distratto passante, incidente che potrebbe creare più di qualche grana al comune. Per evitare ulteriori polemiche, concludono alcuni vastesi, togliamo quelle inutili e pericolose piante da Piazza Rossetti.